musica 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 Fortunatamente quando succede una calamità naturale all'epatuato non succede, Granché. Questo è tipo quando succede terremoto e a noi succede questo. Solo questo. Franchi! Franci 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 Concentrato Franci 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 Io farei una canzoncina a gioco e la sua preferita italiana Siete pronti? I cieli e la terra Pieni È la sua preferita Gloria Hosanna Però lasciano C'è un prete Aspetta C'è un prete Aspetta Può venire il prete qui per favore? No scherzo Sai face bene Allora vuole cantarla con me Ma lei lo trova blasfemo questo momento O è un modo È divertente Quindi è l'importante che si parli di chiesa È intonato Allora posso procedere Ho la sua benedizione? Sì Benissimo Mara ma ti vuoi confessare? No Ma ti ha fatto dieci minuti in latino Franci 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 Franci, 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 Franci. Io farei una canzoncina a giocare la sua preferita italiana. Siete pronti? Sì. I cieli e la terra, pieni. E la sua preferita? Gloria, usanna. C'è un prete, aspetta! C'è un prete, dove? Può venire il prete qui, per favore? No, scherzo. Sa, face bene. Allora, vuole cantarla con me, ma lei lo trova blasfemo questo momento o è un modo... È divertente. E quindi è l'importante che si parli di chiesa. È intonato. È intonato. Allora posso procedere? Ho la sua benedizione? Sì. Benissimo. Mara, ma ti vuoi confessare? No. Ma che fa dieci minuti la dieta? Intergalactic. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti